vi do la ricetta dei calzoni in padella allora vi dico cosa occorre 150 grammi di farina zero quindi quella per fare le pizze per fare il pane e 150 grammi di farina 00 per i dolci una busta di lievito di birra in polvere un pizzico di sale 75 ml di acqua 100 ml di latte e 15 ml di olio extravergine ovviamente se il composto ve lo chiama mettete più olio ovviamente inizio a miscelare tutte le polvere io ho messo le due farine perché mi piace che il calzone sia bello morbido ma se volete un composto più più duro diciamo potete anche mettere soltanto un tipo di farina io miscelo perché mi piace così ho aggiunto il lievito di birra e anche il sale mischio il tutto dopodiché inizio con i liquidi quindi ho messo l'acqua e miscelo poi aggiungo il latte sempre pesato ovviamente quello che fuoriesce non si mette ovviamente e miscelo 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 e lo faccio con il cucchiaio ovviamente all'inizio potete utilizzare il cucchiaio dopodiché potete anche utilizzare le mani io sto mettendo anche l'olio e dopodiché vedete che le mani non saranno più le mie ma della mia migliore amica perché io ho le unghie lunghe quindi per non farvi vedere che impasto io sinceramente ve lo dico proprio sinceramente visto che dà fastidio a tanti lo faccio fare a lei che non ha le unghie lunghe quindi il composto è fatto così come vedete quindi formiamo una pallina vi dico come fare il contenuto io ho messo la passata di pomodoro questa qui dell'euro spin ho messo un cucchiaino di sale poi ho messo l'origano poi ovviamente lo condite a piacere vostro e l'olio extravergine come si può condire oltre a fare il sugo lo potete fare o con l'affettato o con le patate o cipolle verdure quello che volete si taglia in quattro pezzettini dopodiché lo dovete stendere con il mattarello oppure con le mani come volete voi e vi dico com'è la farcitura allora io vi faccio degli esempi poi ovviamente potete farlo come volete voi in questo caso dovete mettere due fettine di provola e nel mezzo viene messo il sugo perché poi andrà in tutti i lati ed è buonissimo poi ovviamente a me piace il salame quindi ho aggiunto il salame poi dovete fare queste orecchiette per chiudere l'impasso quindi così non c'è la fuoriuscita del prodotto buonissimo lo potete fare sia in padella con il coperchio vi raccomando con il coperchio oppure lo potete fare al forno qui ovviamente un po se ne se ne è sceso perché ovviamente ho aspettato per toccarli perché erano caldissimi vi faccio vedere il contenuto e vi ricordo mettendo il sugo o qualsiasi tipo di salsa andando anche nei bordi è buonissimo proprio ve lo consiglio tantissimo perché a me piace tanto fatto al forno devo dirvi che anche diciamo l'aspetto è anche migliore niente questo è tutto spero che vi piaccia buon appetito ciao